Bene, ora faremo una modifica, praticamente non voglio più usare questa scheda per non rovinarla, non si sa mai, quindi toglierò i fili qua, gli speaker che tanto non si useranno più, collegherò la batteria, questa che ormai sarà un po' scarica, qua, così l'attacco a ricaricare, collegherò a questo ampli un'altra batteria, stavolta useremo un interruttorino, un piccolo interruttore, un micro mini switch e faremo test con questo speaker qua, questo driver, con questo che è quello nuovo che è arrivato e con questo che è quello vecchio che c'era montato, 3 watt, 10 watt, 10 watt, quindi procediamo ad insaldare i fili, per comodità ho deciso di non utilizzare più questa scheda, ma montare un semplice un filo con il jack, delle cuffie, per fare prima, quindi questa la metterò da parte. Ciao! 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 ora saldiamo l'interruttore andiamo a metterci un po' di stagno ok vediamo il filo un po' di stagno ora utilizzerò queste nuove batterie qua che sono belle cariche un po' di stagno qua andremo a collegare le masse tutte assieme così proverò uno speaker alla volta purtroppo non ho più fili quindi dovrò contentarmi di usare questo filo che è un po' rigido questo filo qua che è un po' rigido quindi partiamo da quella da 3 watt 10 watt piccola 10 watt grande ora preparo questo cavetto per collegarci il cellulare dunque dopo aver saldato i fili colleghiamo il nostro jack sblocco il telefono metto su musica inserisco il jack faccio partire un brano a caso alzo il volume al massimo accendo l'amplificatore e proviamo questo speaker qua si sente male dal distorsione ok proviamo quella più piccola da 10 watt anche questa distorsione un po' proviamo quella nuova che è appena arrivata anche questa va in distorsione devo dire che quella che si sente un attimino meglio è questa qua piccola il volume è basso rispetto a questa il volume è molto più basso questa è totalmente distorsione volume bassissimissimo quindi ok questo è un test fatto così non vale più di tanto aspetta che abbasso un po' il volume vediamo com'è vediamo com'è vediamo com'è vediamo com'è vediamo com'è questa ha più alti ma pochi bassi allora questa è decisamente migliore tra tutte tra tutte e tre questa è la migliore perché ha buoni bassi e un volume molto più alto questa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti